Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, nell'ambito dell'attività di controllo, tre provvedimenti riguardanti i bilanci di alcuni enti subregionali. Si tratta della seconda variazione al bilancio di previsione 2012 e la gestione provvisoria al bilancio di previsione 2013 del later di potenza. Della variazione di assestamento al bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014 dell'ente di gestione del parco archeologico, storico e naturale delle chiese rupestri del Materano. E infine della delibera di giunta relativa al programma di reinvestimento delle economie accertate dalla Terlimatera al 30 ottobre 2012. Infine l'Assemblea, su proposta del Presidente De Filippo e con la sola stenzione del PDL, ha deciso di costituirsi in giudizio davanti alla Corte Costituzionale nel procedimento intentato dal Governo che ha impugnato la legge regionale numero 22 del 2012 riguardante i pagamenti nei confronti delle strutture accreditate al Servizio Sanitario regionale. Grazie! Grazie a tutti